Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Ellie Schlein è la nuova segretaria del PD. Batte a sorpresa alle primarie il favoritissimo Stefano Bonaccini e commenta a caldo. Con il fiatone è visibilmente commossa. La pazza domenica a sinistra? La pazza domenica a sinistra? Il rivale le ha subito telefonato per farle i complimenti, augurandole di avere il coraggio di cambiare davvero il partito. Non facile, però, visto che alle sue spalle c'è l'apparato che lo ha guidato negli ultimi anni, con Dario Franceschini e Andrea Orlando in testa. E il nostro tempo. Ci abbiamo creduto così forte che abbiamo realizzato un sogno insieme. Ma facciamo in modo che sia solo l'inizio. Vi sono immensamente grata. Anche questa volta non ci hanno visto arrivare. Ha sorriso davanti ai suoi Lashlein. Nella conferenza stampa notturna post-triumfo. Decisivi, come temeva Bonaccini, i voti dei simpatizzanti non iscritti al partito. E quella frase dell'outsider Schlein, un po' underdog, forse, come si era definita Giorgia Meloni, rivela un certo senso di rivalsa verso i media. Ma pure verso Bonaccini e i suoi. Risate. Urla. Applausi e ovazione in sala. Si preannunciano tempi duri per chi ha sostenuto il governatore Emiliano. Le prime parole d'ordine di Ellie? Ricucire le fratture prodotte negli ultimi anni. Tradotto. Cancellare le ultime tracce di Matteo Renzi e del renzismo. Lavorare insieme per l'unità. Almeno a parole. Accolto l'appello di Bonaccini. Ma senza rinunciare a una direzione chiara. Che porterà idem verso il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. Profonda conversione ecologica e opposizione dura al governo. Saremo un bel problema per Giorgia Meloni. Perché adesso il nostro impegno è quello per organizzare l'opposizione nel Parlamento e nel Paese. Ha rivendicato la neosegretaria. Saremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri. Contro un governo che li colpisce. Saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare barricate contro ogni taglio alla sanità. Questo proprio mentre la Premier le faceva gli auguri. Congratulazioni a Ellie Schlein e complimenti al PD per la mobilitazione dei suoi elettori nel Congresso. Spero che l'elezione di una giovane donna alla guida di Via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro. Se il buongiorno istituzionale si vede dal mattino, però, inizierà un periodo di turbolenze. Tra le prime dichiarazioni programmatiche del nuovo PD. Spicca infatti questa dichiarazione della neosegretaria sul drammatico naufragio di migranti in Calabria. Oggi c'è stata un'altra strage che pesa salle coscienze di chi pochi giorni fa ha approvato un decreto che impedisce i salvataggi in mare quando occorrerebbero vie legali di ingresso in Europa. Spicca infatti Spicca infatti